Ciao a tutti, oggi voglio parlare di un libro che mi è piaciuto molto ultimamente. Era tanto che non leggevo un libro di storia e su un vecchio sito che è stato tolto di mezzo ho trovato questo libro di Charles Meyer, Il Crollo, appunto una storia, un saggio storico sulla crisi del comunismo e in particolare sulla fine della Germania Est, della cosiddetta DDR. Perché il libro è molto interessante? Perché nella cornice dei miei studi personali sul socialismo ho trovato proprio quello che cercavo, cioè oltre a un racconto dettagliato di quello che è il contesto tedesco di quello che era la storia, di quello che è stata la storia quarantennale della DDR ho potuto approfondire appunto quelli che sono i nodi fondamentali, storici, il processo che portò soprattutto a livello economico il collasso di questi paesi, i cosiddetti paesi al socialismo reale. Ebbene, cosa abbiamo qui? Combinando una documentazione approfondita anche abbastanza, per la maggior parte inedita, perché il libro è del 98, appunto è appena di dieci anni dalla fine della DDR. Con testimonianze autobiografiche e la propria esperienza personale l'autore, appunto Meyer, racconta e spiega il declino e la disintegrazione della Germania dell'Est risalendo innanzitutto alle peculiarità di quelli che furono quattro decenni di storia di questa seconda Germania, di questa Germania diversa, con il suo particolare mix questo è un concetto che ritorna spesso durante il libro in questo libro infinito di 670 pagine. Ebbene, il mix di consenso e di coercizione cosa non scontata, visto che forse da noi in Occidente questa storia è stata raccontata in maniera univoca, unidirezionale, potremmo dire, come una storia appunto di dittatura una storia di repressione, se non di brutalità pari a quella che fu appunto messa in pratica nei paesi totalitaristi come la Germania nazista, per esempio. Ebbene no, perché non è così? parliamo di consenso, parliamo di un popolo che per 40 anni in qualche maniera obbedì, partecipò. La domanda che si pone l'autore, che è abbastanza chiaramente anticomunista, è qual era il grado effettivo di coinvolgimento ideologico, di indottrinamento della popolazione della Germania orientale. Qual era il suo grado, qual era la maniera in cui appunto una parte della popolazione più di un'altra partecipò attivamente al meccanismo di controllo rappresentato bene appunto dalla Stasi che poi alla fine del sistema nell'89 verrà preso come capo espriatorio, come simbolo di tutti i mali del comunismo, del socialismo tedesco in particolare. Non è così semplice, giustamente Maier in quanto storico va abbastanza in profondo fondandosi su una buona documentazione nello spiegare quali erano, quali possono essere considerati i successi da un certo punto di vista e quali invece i maggiori appunto fallimenti di questa esperienza storica. Poi l'autore mette in luce tutti gli elementi che come dicevo hanno determinato la crisi economica che ha preceduto poi la cosiddetta rivoluzione, anche questo termine è abbastanza controverso, la cosiddetta rivoluzione del 1989 che vide ha abbastanza una buona partecipazione, costituiva in un certo senso una novità, la partecipazione delle masse in piazza, l'organizzazione orizzontale di questi comitati che poi furono in nuce i nuovi partiti della Germania unificata o almeno di quella parte che si stava democratizzando dalla Germania Est che poi verrà unificata ben presto nel 1990. I mesi del crollo anche di questa cosiddetta rivoluzione sono analizzati abbastanza in dettaglio, Mayer stesso ne fu testimone e furono quelli mesi in cui lui per la prima volta poteva visitare di nuovo quei territori. Altrettanta attenzione data a tutti gli attori vari della transizione e direi che la figura principale non a caso è quella di Helmut Kohl, allora cancelliere della Germania a Ovest, il suo ruolo di spicco nel chiedere, nel decifrare la situazione di debolezza di Honecker e dei suoi successori e appunto nel giungere anche alla situazione di debolezza di Gorbachev e nel giungere poi quindi a un grande successo politico come fece in quel frangente. Altri capitoli sono dedicati poi a quello che è succeduto, appunto quello che è successo dopo questi fatti e alla sfida appunto di un'integrazione di un paese che comunque in maniera determinante più arretrato la grossa perdita di posti di lavoro che ci fu per la necessaria ristrutturazione economica che appunto che seguì a questa all'unificazione. Quello che si sarebbe potuto più o meno immaginare se il mezzogiorno italiano fosse stato separato più a lungo insomma dal resto dell'Italia, insomma una difficile integrazione. L'esempio tedesco si può dire ora a distanza di vent'anni e quindi di più di dieci anni se non quasi quindici dalla stessa uscita di questo libro è un esempio di successo, di ristrutturazione, di unificazione e di applicazione di principi economici di mercato a appunto paesi che non lo sono, paesi o precapitalisti o ad economia socialista. La loro riconversione economica, l'aumento della produttività, l'aumento del commercio, l'apertura al commercio internazionale e tutto quello che ciò significa, la possibilità di maggiore consumo per i propri abitanti. È un esempio di successo, è un esempio che appunto interessa a me perché mi occupo anche di economia dello sviluppo e non è un caso appunto che ora la stessa presidentessa, la stessa cancelliera della Germania unificata nel 2013 è ancora Angela Merkel che appunto proviene da quell'esperienza e fu anche un dirigente nel partito comunista all'epoca. Il partito è un elemento centrale non a caso di questa narrazione perché si analizza appunto il ruolo che esso ha, come si fa in tutti gli studi sovietici, negli studi sul socialismo appunto nel cercare il consenso totale, nel tenere fuori ogni voce diversa, sia le voci critiche, le voci riformiste all'interno, sia soprattutto poi qualunque forma di attivismo politico che poteva essere, che poteva manifestarsi e che in pratica si manifestò soprattutto tramite le organizzazioni religiose come in vari paesi dell'Europa dell'Est. Il partito non permetteva altre forme di attivismo, non permetteva autonomia intellettuale, non permetteva quasi nulla da questo punto di vista. Gli intellettuali anche, abbiamo detto, hanno avuto un ruolo abbastanza importante in questa storia, ma io ripeto, c'è un punto fondamentale che viene tirato fuori, che mi interessa in particolare. La Germania Est era il paese più avanzato all'interno del blocco della Germania dell'Est. E questo paese che era il più avanzato e che esportava soprattutto verso la Russia, ma anche verso altri paesi, che in vari settori, per esempio quello della tecnologia informatica era abbastanza avanzato rispetto agli altri paesi dell'Est, era tuttavia in maniera allucinante, più arretrato di qualunque altro paese occidentale, soprattutto di quelle potenze che all'epoca appunto stavano emergendo sempre di più, Germania e Giappone negli anni Ottanta, per non parlare anche poi degli Stati Uniti e di altri paesi europei. Questa differenza si fece notare in maniera drammatica subito dopo l'unificazione e c'è da dire che i tedeschi orientali sono descritti nel libro come quelli che ebbero più difficoltà, i più, che furono i più riluttanti a assumere la missione civica del capitalismo, di uno sviluppo fondato sulla libertà, sull'imprenditoria, sull'iniziativa individuale, piuttosto che appunto un sistema apparentemente orizzontale in cui in realtà c'erano due fasce della società e il privilegio era il meccanismo fondamentale di selezione delle classi dirigenti e non solo, anche dei piaceri della vita, per esempio del viaggio, quei pochi che riuscivano ad ottenere un permesso ci riuscivano per questo motivo, perché avevano in qualche modo collaborato al meccanismo di controllo e di diffamazione. Al di là di questo poi c'è il fatto che, dicevo, il sistema produttivo non riusciva a tenere il passo assolutamente, il sistema finanziario anche dei paesi occidentali e come si è visto in altri contesti, quello che fu determinante poi fu appunto il fatto che la gente scappava da questi paesi, non vedeva l'ora di arrivare in occidente. Voleva i nostri prodotti, voleva i nostri vizi, voleva tutto quello che costituisce una buona parte della libertà di una persona, è inutile a negarlo, il potere di consumo, la capacità di consumare. In quei paesi c'era più uguaglianza sicuramente, c'era uguaglianza nella miseria, si può dire, c'era una distribuzione, c'era un scarso controllo del lavoro, c'era una creazione fittizia di posti di lavoro dove non ce n'era bisogno, c'era un incastro morboso tra varie aziende e scarsi incentivi, questo è stato esplicitato e denucleato in maniera approfondita in questi ultimi vent'anni in varie letterature economiche e storiche, non c'è bisogno di stare qui a ripeterlo, ma il concetto fondamentale è quello e va, secondo me tenuto presente, lo dico in maniera così veloce e affrettata ogni volta che si pensa a soluzioni socialiste, perché sicuramente il capitalismo non si è dimostrato, e questo lo stesso autore lo sottolinea, e non lo era neanche all'epoca un sistema totalmente efficiente o giusto, ma è un sistema più di successo, è un sistema che ha permesso un avanzamento maggiore nel progresso dell'umanità e l'integrazione della Germania sta a testimoniare anche questo, che quel modello lì in una maniera o nell'altra, appunto un'economia basata sul mercato, una democrazia multipartidica e quindi un sistema liberale, più o meno con varie sfaccettature differenze e particolarità nazionali è quello che ha avuto più successo e che ha concluso così appunto la lotta ideologica del Novecento vincendo.